Signori e signori, il momento è arrivato dopo decenni e decenni e millenni e millenni dall'uscita di questo prodotto Ecco che finalmente mi trovo qui a giocarlo e quindi ragazzi direi che con svariato tempo di ritardo possiamo dire E' più vero di questo direzione, ragazzi oggi siamo finalmente su LOL Location Che in quadrato così sembra un YOL Location ma c'è la L grande perché riprende da T Location, Tizze Location Fnift Reference signori, mi piace già sto gioco E' fatto dal nostro carissimo Gabrix727 che ha fatto anche Five Nights at Henry 590 Non mi ricordo mai il numero, quello che avevo giocato tempo addietro Vedo già che le boni reference qua non mancano Oddio abbiamo appena scoperto un easter egg signori Non è vero non l'abbiamo scoperto, lo sapevo già e sono passato qui col mouse perché tanto sapevo che c'era Vabbè diamoci un'occhiata signori abbiamo una R qua Oh salve signore New game signori Ci siamo Wanted Cioè non è che sia work, non è che è help wanted Non è che è solo ricercato, io sto ricercando La grande riapertura del ristorante con una nuova mascotte di LOL TV Cerchiamo un nuovo guardiano per passare 5 notti alla settimana Daremo lo sconto di 100 euro tondi tondi E vorrei ben vedere se non me l'avessi dato Ok Allora Ok che avevo detto che il mio caricamento preferito era quello di Freddy Vaffanculo Questo qua è molto più bello Ok? Ah tra l'altro ragazzi Presente il nostro carissimo ciruzzo epico Che ok no è iniziata la notte ve lo dico dopo Ok signori Vi ho fatto saltare tutta la chiamata così risparmiamo tempo Dal punto di vista del gameplay abbiamo Sto tizio qui che è una specie di Golden Rostar Freddy Che vaffanculo Lo devo zittire cliccando F sulla tastiera quando si sveglia Perciò ok Con control accendiamo la luce qui Qua abbiamo sto roba che non ci serve Qua Perfetto Qua abbiamo la luce e il control shock Che possiamo control shockare quando c'è qualcuno Perché qua davanti ci dovranno passare Memedesimo e Bonny Che mi hanno anche già fatto visita Esattamente nel momento in cui mi è stato spiegato durante la chiamata Come liberarsi di loro Perciò very nice Intanto vediamo che qua c'è un Memedesimo figo Qua c'è un Bonny figo Qua abbiamo invece Vinchia mi ammazzo uno dopo l'altro Stavo scherzando Abbiamo il re del tubo figo Davidovski figo E Galakad di figo Qua abbiamo Oh porca puttana Devo tornare di nuovo così No no Oh senti Diamoci una calmata eh Io con questa merda non ci ritorno eh Non sto parlando della FNAF Crew ok Sto parlando dei loro Dei loro alter ego qua nel gioco ok Mi avete fatto rabire Non ho intenzione di rabire una seconda volta Ok qua abbiamo i Paperdowski Che sarebbero i Paperplates però con Davidovski Ah capite la battuta ho fuso i due nomi Va bene sì avete capito Very nice qua abbiamo delle reference al Rewind 2018 Al Q&A signori Eh tra l'altro ragazzi Ogni 17 febbraio di ogni anno ho intenzione di fare un Q&A nuovo eh Perciò preparatevi perché anche quest'anno torna il Q&A E a proposito del Rewind ragazzi non vi ho espresso la mia incredibile cazzatura riguardo al Rewind 2019 Perché perché non avevo voglia ma sta di fatto che ve l'ho espressa in live su Instagram Seguitemi su Instagram E in ogni caso ragazzi è uscito Oh cat Oh ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Ok E in ogni caso è uscita la versione di PewDiePie che è molto meglio come è stato anche per il 2018 Perciò bene Qua abbiamo un condotto Qua abbiamo Oh che bello reaction Oh ragazzi, la serie della reaction al meme della E Ma quanto mi manca farla Quanto mi manca farla ragazzi, la voglio riportare Però non lo so, ditemi voi Vi lascio il tondaggio qua su nelle schede Volete che riporto la serie delle reaction al meme della E Tra l'altro non si dice meme, si dice memes Ok, si dice meme singolare, memes plurale Ok, perciò, volete che riporto la reaction al meme della E Oh, intanto ci sono fatte le 6 Bello ragazzi, siamo fortissimi Siamo Sì, era No, no, questo non va assolutamente Questo, no, non va assolutamente bene No, no, questo non va assolutamente bene per 3 volte Non va bene per 4 volte No, scommettiamo, ecco lo sapevo Non va bene, non va bene, non va bene Ok Ok, va bene, posso accettarlo, va bene Notte 2 signori, notte 2, quanto ci abbiamo messo? Quanto ci abbiamo messo? Vedete la potenza, vedete la potenza Vedete il caricamento di Bonnie, vedete la potenza Queste sono skills, quelle vere, altro che sto cazzo Cioè, c'è la gente che sotto nei commenti continua a rompere e a dire Eh no, il vero ninja di FNAF e Lore, insisto Fa un culo, Lore, insisto Lore, se stai guardando questo video Io ti batto, perché io sono il ninja di LOL Location Eh? Sono il ninja di LOL Location Cosa vuoi fare adesso, eh? Cosa vuoi fare? Vuoi sfidarmi a LOL Location? Ti batto, ti batto a LOL Location Torna a giocare alla 50-20 dell'Ultimate Custom Night, Lore Qua vinco io Qua vinco io Non rompere Sto scherzando, ti voglio bene Lore, ti voglio bene Sto scherzando Ma più che dirlo a te, lo devo dire alle persone che non capiscono un cazzo che tanto guardano i video Lo so che c'è gente che non capisce un cazzo Perciò lo puntualizziamo Ironia Ironia Andate a cercarlo su Wikipedia Ok, abbiamo finito anche la chiamata di questa notte Devo finire di riassumere anche la chiamata della scorsa notte Perciò ragazzi Allora, faccio un piccolo rewind Nella scorsa notte ci è stato detto dal punto di vista della storia che il nostro signor Gabriel, gestore del locale, era sopravvissuto all'attacco di un certo Eden Trap Perciò qua sento magari il profumino di un certo Five Nights at Eden esterno dal mio, interno al mio, non lo so Abbiamo anche saputo che tecnicamente lui è sopravvissuto Abbiamo saputo che tutto a posto E quindi ok Poi per questa notte si aggiunge un nuovo tizio che tecnicamente è Davidosky Voi vedete che sto controllando qui perché tecnicamente Davidosky mi compare qui E io devo mettere la maschera per riuscire a mandarlo via Perciò fino a qui tutto ok Queste gif, devo esprimere il mio apprezzamento per queste gif o gif o come cazzo si Ti prendo a ceffoni, ok? Ci prendi per il culo Scott, dici sul serio? E va bene, ok Cazzo Ok posso, questa cheat la posso ben apprezzare, molto, molto, molto bene Non torna al menu, qualcosa mi dice che devo riaprire il gioco Continue, ok Allora Vedete perché non mi devo distrarre a parlare? Perché poi dopo la potenza mi scivola dalle mani E io non posso permettermi una cosa del genere Perciò, a parte questo Nelle telecamere, quindi Davidosky, io devo mettere la maschera quando mi arriva qui Qua mi arrivano invece Henry e Bonnie Qua abbiamo la reference a Sassi's Bizarre Adventure Guardatelo sul canale dei Sassi, è appena uscito il terzo episodio Tra poi esce il quattro, ci vorrà molto di meno a fare il quattro piuttosto che il tre Perciò andate a guardare Sassi's Bizarre Adventure perché è fighissimo Questo qua è Bonnie Cugio, andate a vedere Sassi's Bizarre Adventure Molto bene, quindi adesso noi dobbiamo stare attenti a Davidosky Dobbiamo stare attenti a noi Tra l'altro ho notato che non mi pare che ci siano delle batterie Perciò io volendo potrei stare così e così tutto il tempo Ed essere a posto Ma non vorrei, non vorrei portarmi sfiga Perciò per sicurezza non lo faccio E a parte questo, stanotte c'è soltanto Davidosky Perciò tutto ok Dai che ce la famo, dai che ce la famo Non è, non è difficile Guarda, stanno, stanno tutti a posto Io guarda, qua schippo tutti e tre così Così, uno dietro l'altro Che in realtà non serve a niente Ma è giusto per essere sicuro, no? Perché quando puoi vederli, no? Direttamente Quando puoi vederli direttamente Perché dovresti privartene, no? Qui, qui non li vedi, no? Cioè, è una cosa positiva fin qui Assolutamente, è una cosa positiva Però quando puoi anche vederli Cioè, vuoi mettere qua Uno non si... Ecco, ecco, ecco Guardalo, 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 guardalo Ecco Ah, è andato già Bra, bra Tu mi piaci Prima mi stavi sul cazzo perché mi hai attaccato Adesso mi piaci No, 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 ok Bene Mi piaci anche tu Anche perché non mi hai attaccato Perciò mi piaci di più di lui E... E tu Devo ancora decidere Guarda, io adesso tengo acceso Tanto so che arrivi Due minuti Adesso, adesso arrivi Ecco, eccolo, eccolo Shock Vedi, vedi Bravo, bravo, bravo Bravo Vedi, vedi Mi chiedono problemi Capiscono come funzionano le cose qui Stanno a posto Che... Oh, c'eri te Via, via Sto cazzo In tutto questo sono le tre di notte Io direi di stare comunque con le luci accese a sto punto Perché Non mi fido Sono stati bravi al primo turno Ma non mi fido Davidovski ci ha già attaccati Noi non dobbiamo perderci in queste In queste stupidaggini In queste ciance Bando alle ciance Ciance alle bande Stiamo qui Seri e impegnati E Vediamo Di completare anche stanotte Vuoi che il ninja di Lolo Location Non possa Non possa finire la notte 2 Senza problemi, cazzo Tra l'altro signori Parlando di Five Nets Da V-Bay È in lavorazione State tranquilli Lo so Devo aggiornare un pochino di più La pagina Game Jolt Lo so Devo vedere di lavorareci un pochino di più Ma devo anche lavorare Assassin's Bizarre Adventure E Devo anche lavorare ai video del canale Perciò sapete com'è Sono un pochino impegnato Sta procedendo Lentamente Ma sta procedendo E sta avvenendo qualcosa Di abbastanza epic Anche perché In concomitare Eh se Che 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 Vedete che ninja che sono Due attacchi E riesco a evitarli Tutti e due Allo stesso tempo Signori Vedete Vedete Signori Vedete Queste sono le skills Mica poter gestire 50 animatronic in una volta Che tra l'altro Alla fine Loro Non ce l'aveva fatta E perciò io gli avevo tolti I salvataggi Da Five Nets Tlore e Tizze Location Così da farli essere Più simili A Five Nets The Dooku E Five Nets The Eden Che sono dei giochi Più completi Il problema è che Come sapete Tempo addietro Mi si Formattò tutto il computer Perché mi si Bruciò l'hard disk E quindi E quindi Niente ragazzi No Signor Sei Oh Beh Bello 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 Così si fa Si vince Diretti Helpy che balla Il ballo di Fortnite Sei Vai via Possiamo proseguire Signori Alla notte Tre Non possiamo Proseguire Alla notte Tre Perché Ok 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 Abbiamo una cutscene Signori Abbiamo una cutscene Abbiamo lo spray Per gli occhiali E siamo dentro A un animatronic Con la testa viola E gli occhiali Questa cosa Mi confonde Al quanto So che tra gli animatronic Di Gabrix Quello con la testa viola Teoricamente Sarei io Perché è tipo Bonnie Però con la testa viola La maglietta gialla Tipo Cioè il Bonnie LoLTV Tipo E so che questi occhiali Li usa invece però Per l'animatronic Di Lorenzist Perciò Non saprei Inoltre qua abbiamo anche Lo spray per gli occhiali Perciò davvero non saprei Ma che amma fa qui Devo cliccare Devo fare Devo Che devo fare Clicco sullo spray Che devo fare No perché qui La cazzo Comunque sta durando Ah ok Finito Perfetto Perfetto Siamo a posto Notte 3 signori Parlando del caricamento Con Bonnie signori Io Ok che abbiamo Ciruzzo Il sexy Ciruzzo Però io Devo comprare Anche il peluccio Di Bonnie E voglio chiamarlo Gaetano Ok Avremo Ciruzzo E Gaetano Su sto canale Solo che devo trovare Il peluccio di Bonnie Perché uno dice Eh Harry Compriti in online No non me lo compro online È troppo facile Lo devo trovare nelle fiere Abbiamo il re del tubo Stanotte che ci compare Come Davidovski Perciò mettiamo la maschera E siamo a posto E abbiamo Eeeh Sto parlando qui E abbiamo Galakad Che passa dai condotti E quando è nei condotti Devo chiudere sta porta qui Perciò Ok Teoricamente Se volessi usare Una tattica vincente Mi basterebbe stare Sempre con la maschera su Non è vero Non è vero Non posso stare con la maschera su Perché Devo controllare le telecamere Va bene Ho detto una cagata Stai zitto Ci sono che io Ci sono già io Che dico le cagate Qui vuoi che vuoi stare pure te? Stai zitto Tu hai delle incertezze Ok Delle incertezze Che non mi piacciono E io scoprirò Cosa stai tramando Eeeh 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 Mi si scassa pure Il control shock Ragazzi Non so se mi spiego Vedete il degrado Vedete quando uno Quando uno cerca di spendere poco Poi dopo succede questo Succede che ti si scassa Il control shock Oh Wee Wee Ok Ok Wee Eeeh 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 Via Tu mi guardi negli occhi E vai via Vedi vedi Le capisce al volo le cose Sarà perché è l'Oltv Che capisce tutto Cos'è Eeeh Vedi vedi Anche Bonny Capisce subito Si si vede che Bonny Ha imparato dall'Oltv Ma si si vede Dopotutto non potrebbe avere Una così Ma addio È evidente che Bonny Ha imparato dall'Oltv Perché altrimenti Non potrebbe avere Un'intelligenza così incredibile Ma tu Di certo Hai imparato da Davidovski Perché Che 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 Ok Gala Vedi di non rompere Perché Mi devi ancora mandare I doppiaggi Dill'episodio 4 Hai i doppiaggi più corti Che potessi mai Che potessi mai avere Me li puoi fare in due secondi E mandarmeli Ancora non me li hai mandarti Sto aspettando da tre giorni Sono tre giorni che aspetto Che me li mandi Non me li stai mandando Vedi di mandarmi Sti minchia di sondaggi Di Di Sissendo Vedi di Oh Ok Gala Vedi di mandarmi Sti minchia di doppiaggi Altrimenti Io ti picchio Sono le 6 Bella ragazzi Siamo fortissimi Otteniamo un'altra cazzo Oh si siamo in un'altra cazzo In segno Ok Sento molte Five Nights at Lawrence Feels Qua abbiamo Abbiamo Marco Togni Mi sento abbastanza privato Del mio pene Cosa dovrei fare qui Perché mi state guardando C'è lo spray per gli occhiali Vabbè chi se ne però Marco Togni È una cosa un pochino diversa Mi sento abbastanza mutilato Del mio essere Andate via Ok sto andando via Bene Notte 4 Non la faremo in sto video ragazzi La facciamo nel prossimo video Perché adesso io mi sento abbastanza Come dire Frustrato dal fatto che Marco Togni Possa arrivare a prendere il mio culo Perciò Diciamo Che non ho tanta voglia Che questo accada Quindi signori Questo qui era il LOL Location Primo episodio Naturalmente farò il secondo episodio Completerò il gioco Naturalmente porterò Tutti gli altri Fangame Che ancora Devo portare E che dire ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Se vi vi è piaciuto Perciò lasciate un like Ascoltate questo video Commentate quello che vi è piaciuto Con quella video Non lo so Fate voi iscrivetevi al canale Per non perdere i nostri video fantastici Io che parlo veloce In questo modo Per fare l'outro E noi Ci vediamo nel prossimo video Perciò ragazzi Ciao 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 Ciao